proviamo a addentrarci vediamo se stiamo a prendere la prima cortellata oggi, primo giorno mamma mia regà, mamma mia, mamma mia, qua feci, mamma mia regà, feci, panni con feci, mosche con feci secche, cappello con feci, solo feci da qualche parte arriva il rumore da Natale, da lui buongiorno, un letto, qua qualcuno ci dorme, così funziona, se stai lesso, stai lesso non è che c'è episodio possibile che quando andate a comprare un bel letto, metterlo in mezzo alla via, magna bene l'integrale fai quello che puoi, cioè bivacchi normalmente, poi aggravato dalla situazione del Pino e delle cose, prenderlo in questa situazione